Mettiamo caso che non c'è l'intelligenza artificiale oppure non la vogliamo usare. Te Aranno, come si trovano le idee per un romanzo? Allora, io dico sempre una cosa, la mia è una premessa, che gli scrittori sono ladri, devono rubare, devono rubare da tutto quello che vedono, che ascoltano, che toccano, che annusano, che gustano. Gli scrittori possono trovare l'idea per una storia dentro la loro vita, ma anche nelle vite degli altri. Dentro la loro vita significa che se per esempio vedo un bambino, la storia di un bambino che si salva da un rastrellamento nazista salendo sul tram, mi posso dire che è una storia bellissima e questa storia la voglio scrivere. Però può succedere che mia madre mi dica, ma lo sai che tanto tempo fa a Melilli una ragazza fu ammazzata il giorno del matrimonio. Venta una storia bellissima da raccontare. Ma può anche succedere che io mi imbatta negli atti di un processo per stregoneria. Io sono una giurista e che io venga a conoscere la storia atroce di ragazze mandate a morire soltanto perché intelligenti, o colte, o belle, in un'epoca in cui tutto questo non se lo potevano permettere. E questa diventa l'idea di scrivere una storia. Allora, da dove nasce l'idea? Da tutto quello che ti emoziona, almeno per me funziona così, poi ogni scrittore ha i suoi strumenti e i suoi metodi. La mia benzina, lo dico sempre, sono le emozioni. Se un fatto, un episodio, una parola mi fa scattare dentro di me un brivido, un cortocircuito emotivo, allora diventa una potenziale, un potenziale racconto, una fiaba, una favola o un romanzo. Quindi, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, anche io ho usato quell'applicazione e io ho chiesto, mi racconti Cappuccetto Rosso? Certo, è la storia di una bambina che incontra un lupo che si traveste poi da nonna che se la mangia. Non c'è sospanso, non c'è ambientazione, non c'è quel qualcosa che cattura i bambini quando racconti una storia. Non c'è un punto di vista. Allora, l'intelligenza artificiale, quando gli ho chiesto, scusami, come faccio a trovare l'idea per un romanzo? Mi è uscito fuori un papello. Guardati intorno, leggi i libri, vedi le esperienze degli altri. Ma l'ha detto, è stato proprio perfetto. Mi ha detto tutto quello che devo fare per trovare l'idea di un romanzo. Però non mi ha detto che se io mi taglio con il rasoio, inadvertitamente, ed esce del sangue e quel sangue compone una figura particolare su una piastrella, quella può diventare l'idea per una storia. Farmacia letteraria, un podcast della Scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461 Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.